Nel quadrato monumentale del cimitero di Poggio Reale erano state realizzate opere edilizie abusive in una delle cappelle, con conseguente compravendita illegale degli spazi. Il Comune di Napoli, dopo un percorso concluso con la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, ora ha acquisito al patrimonio tutta la cappella con i 50 loculi, che saranno quindi adesso assegnati ai cittadini attraverso un regolare bando pubblico. Una dimostrazione chiara del fatto che oltre ad essere una questione di principio, la legalità conviene. Le cappelle e i loculi non si possono compravendere, questo dicono le disposizioni di legge e quindi quando questo avviene, nel caso specifico anche aggravato da abusi edilizi, scatta l'acquisizione al patrimonio comunale. Acquisiamo simbolicamente una cappella nel luogo più prezioso e amato e vissuto dai cittadini napoletani, ovvero nel quadrato monumentale e questo sia il monito di una lotta feroce che noi conduciamo a tutti coloro che sulla pelle dei cittadini hanno, come dire, determinato grandi fortune, ma probabilmente anche causato grandi infelicità. Gli acquirenti potranno pagare questi loculi, come già avviene nei sei allargamenti cimiteriali, al prezzo stabilito dal Consiglio Comunale e nulla altro. E stamattina è stato fatto anche il punto sui lavori per la realizzazione del forno crematorio, che sono ormai in fase avanzata e termineranno entro cinque mesi. È un risultato, credo, storico. Basta parlare con il nostro direttore, che ringrazio tutta la squadra, per dire che era una cosa di cui si parlava dagli inizi degli anni Ottanta del Novecento. Quindi legalità concreta contro l'abusivismo, la compravendita tra privati di cappelle, in favore dei cittadini per un'operazione di trasparenza insieme ad altre che si stanno facendo, dai seppellitori ai funerali pubblici che sono ritornati con il trasporto delle salme cimiteriali. Qui, alle nostre spalle, ormai l'ultima azione è imminente, mancano pochissimi mesi per il crematorio, anche un lavoro complicato, difficile. Quello che ci tengo a dire è che è stato un lavoro veramente di squadra. La parte amministrativa del Comune, la parte politica, i lavoratori del cimitero, la Polizia Municipale, un lavoro di sinergia anche con il con altre istituzioni, perché sappiamo, lo ricordavate anche voi prima, ci sono stati scandali. Quindi operazioni di trasparenza e di liberazione delle salme, potremmo dire, perché effettivamente è particolarmente odioso vedere affari illeciti e vicende gravi sulla pelle dei familiari dei defunti. Un messaggio molto forte, anche entrando, vedere scritto cappella della legalità, un bando che tra l'altro parte oggi per l'assegnazione dei loculi, credo che sia una cosa importante.